Ciao a tutti, sono Alessio19870 Alto gameplay di Resident Evil 3 Nemesis Via! Allora Andiamo avanti di qua Via il nastro E via Mappa Ah! Mi trovo nella torre dell'orologio Vai! Adesso andiamo avanti Andiamo avanti Delibri a terra, chi è? Andiamo a vedere Armi pronte Carlos Sì 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 Sono utili Allora, prendiamo le granate esplosive Eccole Allora, andiamo di qua Di qua devo andare Uh, cartucce per il fucile E prendiamo Va Ha un documento Vediamo Eccolo No Ho saltato la pagina Cazzo Ok, controllato Via Qua c'è la mappa De la torre Ok, qua c'è lo spray medico Me lo prendo Poi andiamo un attimo indietro Perché c'è un altro documento Da prendere Eccolo qua Ok Possiamo tornare indietro Con questa porta Vediamo chi troviamo I zombie Prendete questo Qua ce n'è uno Con l'altro E' di là Eccolo, lo vedo Lo vedo Eccoti Prendi questo Oh, è morto Ok Andiamo di qua Allora, sblocchiamo questa porta E andiamo di qua Qui Si, c'è posto Qua c'è la chiave Per la torre Sopra All'ultima Secondo piano Me la prendo Ce la uso Qua In questo punto La chiave Torniamo indietro Oh Merda Ho un terribile presentimento Posiamo gli oggetti Allora Cartucce Spray Così Aspetto un attimo Una cosa Allora Prendiamo le pulvide a sparo Un attimo Un particolare C'è Allora B Adesso vi dico perché Allora Combiniamola con la B Per te La C E l'altra Ancora Ecco Risulta No Aspetta Prendiamo un coso Questo E voilà Allora Combiniamo la polvide a sparo C con questo Granate esplosive Polvide a sparo C con le granate esplosive Voilà Granate congelanti Ok Visto Per avere le granate Si fa così Lo mettiamo a posto No No Non devo prendere niente No 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 Ah Fucile d'assalto C'è qualche Pirla Ok Usciamo Ok Ok Andiamo avanti Oh Cazzo I zombie che rompono La vetrata Oh Merda Due agitati Prendete questo Anche voi Col fucile potenziato Ok Usciamo di qua Super potenziato Qua ci sono i corvi Quindi Fucile d'assalto Eccoli Minardi Eccolo Anche lì Perfetto Ecco l'altro Ok Eliminati Andiamo di qua Uh L'erbe verde e blu Prendiamole Ok Ok Adesso La blu Ok Combiniamo L'altra Eba blu Ecco qua Andiamo Lancia granate Entriamo Ok Qua sopra devo salire Ok Ok Di qua Oh Cazzo I ranni Giganti Oh Oddio Questi ragnetti Non scherzano Prendi questo L'unico punto Debole Sono le granate Acide Con altre armi Non mi conviene E due La terza Ma Vaffanculo Muori Ragnetto schifoso Che sono morti Via Ok 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 Andiamo di qua Interruttore Sì Uh Le luci Oh Qua 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 due erbe Erbe rosse Prendiamole Ok Quest'altra Ok Ok Usiamo la chiave Qua Ecco Che la chiave Via Saliamo Si sale Si sale Uh Due povera Sparo Le prendo Va E c'è E c'è un inganaggio Ok Ok Allora Posiamo il fucile Assalto Le due Le erbe Allora Così Eh Guarda dove sono le polvere A sparo Vediamo questa chiave Prendiamo un po' No niente Boh Mi sembra Boh Basta Allora Prendiamo l'inganaggio L'inganaggio D'argento Eccolo qua E qua Facciamo partire Questa musichetta La combinazione È semplice La Su La B Giù La C Su La D Su Giusto La E La E Giù E la F Su Via con la musica Giusta Giusta combinazione Su Giù Su Giù 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 Ecco L'altra Chiave 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 Combiniamo Le due chiavi Qua E voilà Scendiamo Torniamo Torniamo in quella porta Verde Vedi Ecco qua Sapevo io Nemesis Ancora Lucio Corda Corda Staccata Uuuh Nascosta elettrica Staccando il filo Boom E sviene Qua Niente Nel cortocircuito Andiamo a vedere La via Qui Si è rialzato Oh merda E' in piedi Dopo pochi secondi Pazzesco Via 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 Mettiamo il lanciarazzi Per sicurezza Andiamo di Eccolo Cazzo Oh Neanche tempo Di mirare Oh mio dio Ma vaffanculo Pezzo di merda Prendi questo Che Oddio No 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 Ma hai detto Stronzo Di Alzati Prendi questo Usiamo l'erba Ma hai detto Bastardo Dai rialzati E vieni qua Prendi questo Oh Eliminato Mette l'angiaganate E torniamo indietro Che Bastardo E' la prima E' la prima erba Che uso Questa porta Questa porta vera Che ho detto Ecco Scartiamo Ed entriamo Altri Altri ragnetti schifosi Prendi questo Qua Uh Granate esplosive Le prendo Altri ragnetti schifosi Muori Ecco il terzo Prendi questo Ok Eliminati Via Allora Lì c'è un documento Qua 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 Eccolo Ok Andiamo a attivare In fondo Cartucce fucile Le prendo Va Cos'è sto cosa La campana Vediamo se la spingo Ma che Non riesce a spingere Ma E' pesante Prendiamo questi tre ulcetti Qua Se sembra Sfera di cristallo Qua Qua di bronzo Sembra Ma La prendo E questa qua Doro Ambra Prendiamola Va Allora Ancetta Qua Qua è un enigma Si Devo toccare Ancetta A mezzanotte Mezzogiorno Quello che è Allora Vediamo un po' Qua mettiamo Questo No 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 Lo riprendo Lo riprendo E' difficile Allora di qua Devo metterlo Visto Poi questo Quello di bronzo Di qua No No Cazzo Vediamo di bronzo Qua Vediamo un po' Che succede Se lo metto Lo metto Di qua No Cazzo Riprendiamoli Forse ho capito Perché Ma Vaffanculo Che enigma Di merda Allora Dorato Di qua Ok Poi Qua Mettiamo Quello di bronzo Mi sembra Si Quello di cristallo Qua dentro Giusto Oro Bronzo E cristallo Da destra A sinistra Ed ecco L'altro Inganaggio Quello dorato Eccolo qua E lo combino Con questo Quello D'argento Eccolo qua Torniamo All'ultimo piano Torniamo all'ultimo piano Ok Ok qua e andiamo avanti ancora con la bomba lasciamo a perdere è pericoloso ok ci siamo allora mettiamo l'ingaggio qua ok allora prendiamo il nastro e qualche erba e medicina cartuccio e fucili le metto qua le esplosive qua qua c'è un casino di roba allora facciamo così tre sono sufficienti dopo il primo no dopo si nastro e via andiamo a salvare allora salviamo qua ok allora vi dico che finisce qui il gameplay di Resident Evil 3 Nemesis un ciao da Alessio19870 al prossimo gameplay